Ti abbiamo visto giocare in diverse zone del campo e innanzitutto ti chiedo come stai, anche a livello di fiducia e dove ti sei trovato meglio in queste settimane? Diciamo che quando il mister ti utilizza in più ruoli è sempre una cosa positiva alla fine, quindi sono molto contento di questo perché sento la fiducia del mister, questo sì. Diciamo che sì, il mio ruolo principale è quello del centrocampista, ma posso fare anche altri ruoli e devo sicuramente migliorare. Ammesso anche il mister che è stato difficile digerire quel pareggio che avete subito all'ultimo secondo domenica scorsa, come sta la squadra a livello di morale? Domenica abbiamo subito quella beffa al 96esimo sull'ultimo calcio d'angolo, ma è un errore che dobbiamo metterci alle spalle e continuare a voltare pagina e andare avanti perché se pensiamo al passato non riusciamo più. Ma la squadra rispondendo alla sua domanda sta bene, dobbiamo voltare pagina, lasciarci l'errore indietro e andare avanti perché non ci sono altri modi. Ci sono altre 12 partite che sono tante ma non tantissime e i margini d'errore cominciano a ridursi. Sì, mancano 12 partite che per noi devono essere 12 finali. Dobbiamo sicuramente limare l'errore perché questa è una categoria dove l'avversario gioca sul tuo errore. Ed è un periodo dove al minimo errore lo paghiamo caro. Quindi dobbiamo essere bravi a limare ogni errore possibile e ne usciremo sicuramente. Quattro punti di ritardo sulla pergolettese vi spaventano a questo punto del campionato? No, assolutamente no. Guardando come ci alleniamo la settimana, il valore che ha la squadra, sinceramente no, non mi spavento perché innanzitutto mancano ancora 12 partite che sono tante. Ripeto, l'anno scorso, a questo periodo eravamo a nove punti di distanza dalla vetta e alla fine siamo riusciti a vincerlo. Quindi non dobbiamo spaventarci, dobbiamo continuare a lavorare e pensare soprattutto domenica per domenica perché quello è l'importante. Ti volevo chiedere appunto, Filippo, con la Vispesoro l'anno scorso, sorpasso al Matelica proprio all'ultimo respiro. Come si fa in questi momenti a restare lì con la testa e a pensare che quattro punti con lo scontro diretto anche da giocare sono recuperabili? Innanzitutto sono quattro e non nove come l'anno scorso e quindi diciamo che c'è una bella differenza. E poi come si fa? Dobbiamo continuare a fare come stiamo facendo, lavorare forti in allenamenti, fare quello che ci chiede il mister e soprattutto pensare a domenica per domenica, non pensare allo scontro diretto, alle partite dopo. Dobbiamo pensare domenica per domenica e basta.